Io mi occupo di papilloma virus negli animali domestici da un punto di vista molecolare. La mia ricerca si basa sul studio comparato tra diverse specie animali come il cane, il gatto, il cavallo, gli ovini e l'uomo per lo studio delle forme neoplastiche provocate proprio da questo virus. Negli animali domestici infatti causa diversi tumori in varie parti del corpo che possono essere sia benigni ma anche maligni, mentre nell'uomo è noto per essere la principale causa di cancro al collo dell'utero nella donna. Tramite lo studio comparato quindi ci proponiamo di andare a valutare quello che è il ruolo di papilloma virus nella produzione di questi tumori, nonché di andare ad analizzare quelle che sono delle attività in vitro ed ex vivo di molecole antivirali. La produzione di dati ultima quindi ci dovrebbe permettere di andare a produrre delle nuove terapie sia per la cura del cancro nell'uomo che negli animali. Grazie alla ricerca quindi io riesco a sfruttare quella che è la mia passione che è la veterinaria per cui ho studiato applicandola al campo umano in un ambito che è quello dell'oncologia e riesco a farne un lavoro. Grazie a tutti.